Buongiorno, eccoci qua, occhio pecoro a gogo, pecorizzato al massimo, guardate il lavoro, ma bisogna alzarsi. Lui era lui, certo che è lui, lo schiso, guardate come schisa. Oh, depecorizzato, grazie allo schiso e ora si parte a me. No, vabbè, anche stamattina. Sta pieno, veramente, guardate, non ci si crede, guardate, le scaricano proprio a gogo, cioè a gogo. Oh, sta sempre pieno, sta pieno, 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 pieno. Tornare i bambolotti. Guardate quanto sono belli. Non c'aveva la musica accesa. La musica a nonna perché, vabbè che è mezza sorda, però, ma no, me la sento. Sta pieno, pieno stamattina, un casino, pieno, non si esce. Malonna, mi ha preso un colpo. Era pieno stamattina, ma ho schivato da su sinistra che passa un po'. Qua, insieme a mia sorella, siamo andati a fare un sopralluogo su questo posto incantevole, ragazzi. Guardate che bello. Fa! 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 Ma che di tempo, fa! 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 Coccodrilli, se ne volete sapere un po' di più sui mercati finanziari, date uno sguardo qua. fate swipe così con il ditino che stai fai o no? ma Federico te l'ho detto anche un'altra volta qua un po' sti lavori te li va di coglia ma te tremo al braccio da me non mi tremo in niente che te tremo? tu pensa per te che te tremo? oh te do un caccio mannaggia oh dopo dici per te ma che stai fai? una frega fu e dopo che fai? e dopo che fai? che fai dopo? ma tu dagli un po' più di... fermi che ti do un po' ti do un po' più di coglia se c'è chi ha per vendere che urli quello ballerino questo è l'imbuto che ti ha levato i coglioni hai capito? mattene Dio caccio ma pensavo che era l'imbuto ballerino che te fai? i spaghetti alla fai? si buoni? e beh è buona la fai? e che ne so è buona? a me piace sei sicuro? e beh ahhh sono oltre l'ho da mangiare beh ero nascosto qui c'è tutto veramente un super cristotepo eh? si sei spaurato? ma io mi so spavuto che io mi spavuto attenzione abbiamo i 50 grammi di pasta eccoli ma secondo voi quanti so? scrivetemelo eh sono da giro è in 50 grammi eh siamo a maggio attenzione sta nevicando sta nevicando ancora tutti gli impianti aperti incredibile skillift seggiovie ovovie cabinovie tutti incredibile guardate come sta nevicando incredibile sono riaperte le piste nere le piste azzurre le piste rosse incredibile anche lo snow park incredibile guardate quanto ha nevicato sta nevicando 50 grammi di pasta e neve a volontà incredibile e mi puoi cazzo miei scusi lei ma tutta questa pasta ripastata con doppia ripasta asparagi e prosciutto riprosciuttato ma che dieta che dieta è? che dieta è? e quella mi puoi cazzo miei e dopo? e tu fatti tu e poi? e dopo vaffan arzughe? mmm carzughe nooo eh ma perché arzughe? che si sta a dimette? il papa se dimette gli mettono il cappello il cappello delle dimissioni va via il cappello delle dimissioni va via Mario oh le hanno sti musici gialli? perché? ma perché me lo stico io ma è un bel ma è un bel ma è un bel ma è un bel perché? perché ne voglio dire ma è un bel lini guarda è un bel lini ma è un bel lini è morto non penso è un bel lino o no? o no non penso nel comando vaffanculo dai ma è un bel lino ma è un bel lino ma è un bel ma perché? non penso nel comando guarda si è un vestiti da frati ma non li vuoi vedere? ma che c'hanno sulla testa? il merletto il merletto sì sono detto come una donna che vaffa di storia una fortezza volante perché? c'hanno i cosi che c'hanno? sui capellini che cosa è bello? fermati che cosa è bello? mannaggia c'è la cristoteca che ti guardano tutti oggi prendo la macchina sì cazzo io voglio vedere questa macchina vai col puntone sì 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 col puntone con la puntodrillo sì sì tutta bella coccodrillata sì assurdo pazzesco mamma mia che pressione si è carico mamma mia sì girerai sui 45 45 45 45 mesi come il parmigiano secondo me sei un portente ilberto paloschi eccolo sei pronto albe? eh? sei pronto o no? così si va sul kart l'outfit giusto stanno dove vai a giocare? parlo perché macchina seria piano eh guarda che spettacolo quanto sei bello c'è il fashion block del nuovo millennio sulla puntodrillo con la scherina così sbagliati al sesto posto sei sparso sesto sei arrivato sei grande grosso coglione c'è un tappo di merda stai in mezzo a fare i tappi c'è un portato carissimo non ne parliamo diga qualcosa con una comprata altre lo scatolo assatanato fammi toccare il cincillà fammi sentire il cincillà fammi sentire il cincillà oh l'oro dai che c***o ma ci vuole la benedizione Filippo è la benedizione ma l'ho comprate benedizione cammino attrezzato cammino benedico sbambi sei impotenti snaus vede le patrie da mirve a stemmi anche Massimo bolli super carico l'hai visto? un scherino l'ho comprate mamma mia è appena è morto bia ma che c***o sa fa che stai guardando? guardami Dio! e dopo? e dopo fai quello, fai quello ah, fai a mangiare, vedi col io, fai a me fare un pennello, si fai a me fare la sega la cena nonna maria, le pluripollarros con le patatonde, le borronde, la patatonde mamma mia, nonna maria, occhiolino ma chi è chi? fa! 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 o no? interroma! chi ha segnato? e che ne so, non l'avevo visto detto se non te l'avevo detto io, tu, eh? e vabbè? o no? chi ha segnato? non lo so chi ha segnato? Brozovic e Vecino dialogo soprattutto con Castor, con Fonseca, ricorda che siamo a quattro e devi avere un attenzione di stessa diversa rispetto a prima Vecino Vecino? Brozovic e Vecino vabbè, vabbè vabbè ripetelo e lui ripetelo Brozis e Vecino eh? Messino e? e baffanculo ogni volta che arrivo a casa trovo la porta aperta che ha fatto il cane? ha fatto un uomo che ha fatto? nooo come sa che ha fatto la cacca in camera ma quella ha bastato il pallone sta in mezzo a tre giocatori ma tiralo di qua che ha stop? non l'aveva tirato 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 scusa ma come fanno a giocare? no ti piace come giocano? no perché? è perché guarda quando si gioca no niente un passaggio due e mangi ma perché? ma perché? ma perché in gioco? perché in gioco? perché in gioco? è in gioco! che paolo! quasi in incrocio! ma chi? chi ti pare imbriaco? chi ti pare imbriaco? ci sarà calcio d'angolo per noi chi ti pare imbriaco Luca? Luca! mi pare imbriaco perché? c'ha fatto? c'ha fatto? rana calmo rana c'ha fatto no? ha tirato! che salvataggio ha fatto? grande rana o no? che salvataggio ha fatto? ora eh ritardo ma si tuffa ugualmente eh o no? oh che salvataggio ha fatto? eh l'ho visto grande che salvataggio ha fatto? di ahhh Luca! chi ha segnato? Luca! chi ha segnato? ahhhh chi ha segnato? no! no! che salvataggio? look! non mi lo vediamo mi sa che ti balla ma che sei! no perchè ha sentito un po' di musica e si sembra... eh ma balla l'uccello? no! sì! sì no no l'ultima storia mi pareva che te ballava un po' ah no no ti voglio fare il pennello vabbè via no ma dormi noi va a dormi va saluta a tutti ci vediamo buonanotte ah ragazzi questo weekend super sorprese vero vero super sorprese quante tante pennelli come ti fa il pennello ma per fare così che ti fa ma si anche la nonna mi difende ma allora se non voglio manco un pennello manco il pennello che ti fa il pennello che ti fa il pennello smetto lui ti smetti io lui pennello te ne fa un'altra rosa ma la ah ah ma è benissimo ma è nata un'altra no ma capi qualcosa smettela ma è nata un'altra botta tutti i giorni sono i discorsi ma l'anno scato perché ti c'è botta dentro e questa giornata è andata e ci avviamo verso il weekend domani giornatina bella frizzante ma per il weekend prevedo grandi cose ragazzi state collegati vedrete delle belle chissà chi indovina vediamo un po' che cosa faremo questo weekend insieme ai nonni insieme insieme cosa faremo chi lo sa dove saremo boh provate a indovinare intanto io do la buona notte e vi ringrazio come ogni sera perché vi voglio veramente bene grazie ragazzi notte grazie